Violenze, stupri, omicidi, delitti di ogni tipo vengono commessi ogni anno nel nostro paese, come in tutte le altre nazioni del mondo del resto. Ma questo contrasta con l'aggettivo, divenuto sostantivo, che viene usato per descrivere la nostra nazione, il bel paese. Bel paese. Da un lato, una terra ricca di bellezze naturali e architettoniche, un clima mite, una popolazione di simpaticoni, spaghetti e mandolino. Ma anche mafia, corruzione, nepotismo. Tutto è il contrario di tutto, in un'unica parola. Italia. Sono Very Dark Princess e narro le vicende più etrogi che hanno fatto tremare, riflettere, e discutere, e che hanno fatto la fortuna dei media, anche. Benvenuti nel mio podcast Italia Nera, il male nel bel paese. Benvenuti in un nuovo episodio di Italia Nera, il male nel bel paese, il podcast true crime che indaga sui delitti e sui misteri del nostro paese. Prima di iniziare, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del podcast, di cui trovate il link sotto in descrizione. Se vi va, mettete mi piace e commentate. Dopo la pausa estiva, torniamo ad affrontare il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di cui si sono perse le tracce nel maggio del 1983. Chi ha ascoltato il podcast fin qui lo saprà già, ma occorre un piccolo recap per i nuovi utenti. Siamo nel 1983, Emanuela Orlandi ha 15 anni ed è una delle poche persone al mondo ad essere una cittadina vaticana. La sua numerosa famiglia, infatti, vive proprio lì, dentro le mura leonine, perché il padre di Emanuela è un messo pontificio. Emanuela frequenta il liceo scientifico e nel frattempo studia all'Accademia di Musica Tommaso Ludovico da Victoria, situata in Piazza Santa Polinare, a Roma. Il 22 giugno dell'83, nel pomeriggio, esce di casa per recarsi alla scuola di musica e seguire corsi di flauto e canto corale. All'incirca poco prima delle 19, esce dall'ultima lezione e chiama a casa da una cabina telefonica. A risponderle è sua sorella Federica. A lei, Emanuela dice che prima delle lezioni è stata fermata da un uomo che le ha proposto un lavoro molto remunerativo. Si tratta di un funzionario della ditta di cosmetici Avon, che le ha chiesto di fare del volantinaggio per l'azienda durante una sfilata delle sorelle Fontana. Pagherà circa il corrispettivo di 580 euro per due ore di lavoro, un po' tanto per un lavoro di volantinaggio, pensa Federica, che sconsiglia la sorella di accettare quella proposta. Chiusa la chiamata, Emanuela rimane ad aspettare all'uscita della scuola due compagni di corso, con le quali raggiunge poi la fermata dell'autobus in corso rinascimento. Pare che qui abbia confidato loro della proposta ricevuta e che sia stata messa in guardia anche dalle amiche. Intorno alle 19.30 le due ragazze salgono su due autobus differenti, mentre Emanuela rimane da sola ad aspettare. Forse aspetta un autobus successivo, nella speranza che sia meno affollato, oppure aspetta proprio qualcuno, magari il funzionario della Avon. Fatto sta che da quel momento nessuno l'ha più vista, Emanuela, o perlomeno nessuno la cui testimonianza sia considerata attendibile. Tante sono le ipotesi che si sono affastellate negli anni riguardo il caso Orlandi, tra chi ha sostenuto la pista del terrorismo internazionale, della banda della Maiana, fino ad arrivare ad ipotizzare il coinvolgimento del Vaticano stesso. In questo nuovo e ottavo episodio parleremo di una delle piste più importanti e tuttora credibili. Stiamo parlando di un'ipotesi a lungo vagliata dal giornalista Andrea Purgatori, che per anni ha indagato sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Stiamo parlando della pista finanziaria. L'ipotesi è che Emanuela sia stata usata ai fini di un ricatto volto alla restituzione di denaro da parte del Vaticano. Sono soldi che il Vaticano doveva a un'importante organizzazione criminale, forse proprio alla criminalità organizzata. Ma come e soprattutto perché una ragazza di 15 anni rimane coinvolta in un intrigo finanziario che non la riguarda? Andiamolo a scoprire. Come abbiamo detto negli episodi precedenti, lo IOR, acronimo di Istituto per le Opere di Religione, era al tempo il fulcro dei movimenti finanziari della Santa Sede. Eppure, esso non è, come invece spesso si pensa, la banca centrale della Santa Sede, perché questa funzione è svolta dall'Apsa. Ma negli anni Ottanta lo IOR fa talmente tanto parlare di sé da oscurare l'esistenza della banca centrale vaticana, da diventare nel pensiero comune la banca vaticana. Perché accade questo? Il motivo risiede in alcuni scandali finanziari, che si intrecciano da un punto di vista temporale con il caso Orlandi. La storia oscura dello IOR viene da lontano. Tra chiese e denaro, d'altronde c'è sempre stato un rapporto contraddittorio. Ma il punto di non ritorno giunge quando a fare da direttore dell'Istituto per le Opere di Regione, viene nominato il controverso monsignore venuto dagli States, Paul Casimir Marcinkus. Torniamo indietro. Siamo negli anni Cinquanta. Un giovane sacerdote americano si fa largo tra gli ampi corridoi di città del Vaticano. È alto e imponente, e quel piglio deciso gli farà fare strada. Viene da Cicero, il sobborgo di Chicago che ha dato i Natali al boss mafioso Al Capone. Lui, il giovane sacerdote americano, ha origini lituane. Il suo nome è Paul Casimir Marcinkus. Riceve i voti nel 1947. Prima si laurea all'Università Gregoriana, poi si trasferisce alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, un campus per diplomatici della Santa Sede. Nel 1952, il giovane Marcinkus ha appena 30 anni, ma sta già facendo carriera in Vaticano. Le voci sul suo cursus honorum accelerato si rincorrono. C'è chi vocifera riguardo un'amicizia con l'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Giovanni Benelli, che lo ha preso come collaboratore. C'è chi invece parla di raccomandazioni venute dall'America a nome del cardinale di New York, Francis J. Spellman. Quest'ultimo avrebbe goduto del favore di Pio XII, Papa Pacelli, per via delle sue tesi anticomuniste. Insomma, che sia per Benelli o per Spellman, a Marcinkus in quegli anni si aprono molte porte. Ma lui è un sacerdote antelitteram. Fuma sigari cubani. Frequenta i salotti e i campi da golf. Preferisce le palestre e le sacrestie. Ama divertirsi. Più tardi verrà ricordato per il motto Tradotto Opposto al suo, è lo stile di vita di Giovanni Battista Montini, allora pro-segretario del Papa. Nel 63, alla morte di Giovanni XXIII, Montini viene eletto pontefice e prende il nome di Paolo VI. Appena insediatosi, il nuovo pontefice incontra il cardinale new yorkese, Francis J. Spellman, Ed è qui, forse, che quest'ultimo gli raccomanda il sacerdote venuto dalla città di Alcapone. L'anno seguente, tra Paolo VI e Marcinkus scatterà un'alleanza di ferro. Il loro rapporto, infatti, prende il volo quando il pontefice viene salvato dalla calca della folla, proprio grazie ad un intervento fulminio di Marcinkus che lo mette in sicurezza. L'indomani, il sacerdote americano verrà scelto come guardia del corpo di Paolo VI e diventa così responsabile della sicurezza del Papa durante i suoi viaggi nel mondo. E così, Marcinkus sale i gradini della gerarchia ecclesiastica, diventa vescovo e poi nel 71 viene scelto come segretario dello york. Sono anni in cui la Chiesa vessa in difficoltà economiche dovute a un crollo delle offerte dei fedeli. Dopo la morte dell'amato Giovanni XXIII, ricordato come il Papa Buono nella narrazione di media, le offerte diminuiscono da 19 miliardi a 5 miliardi di lire. Ma non solo. Nel 68 il governo italiano introduce una tassazione sui dividendi percepiti dalla Santa Sede sulle società partecipate, dividendi che prima erano esenti da tassazione. Sulle casse del Vaticano pesa ora un esborso pari a 1 miliardo e 200 mila euro attuali. È a questo punto che Paolo VI affide il trasferimento all'estero delle partecipazioni proprio a Paul Marsinkus e al laico Michele Sindona, banchiere di origini siciliane con legami negli USA. I due, i sacerdoti laico, iniziano a tessere la loro ragnatela. Sindona individua i canali per il riciclaggio della mafia, compra piccole banche private per poi diventare proprietario anche della nordamericana Franklin, al ventesimo posto nella graduatoria del credito nordamericano. Per non farsi mancare niente si affilia anche alla loggia massonica Propaganda 2, nota come P2 di Licio Gelli. Insieme a Marsinkus inizia a controllare una notevole esportazione di capitali attraverso una serie di magheggi finanziari fatti con i beni del Vaticano. Oltre a questo si riscontrano anche cospicui finanziamenti alla democrazia cristiana. Sarà lo stesso Sindona a presentare a Marsinkus il banchiere Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, una delle principali banche cattoliche italiane. Il suo dalizio viene stretto nel 71, l'anno in cui Paolo VI nomina Marsinkus presidente dello IOR. Sindona, Marsinkus e Calvi riescono a manipolare gli andamenti della Borsa di Milano con le società del Vaticano che finiscono a Calvi per tramite di Sindona. I debiti e le partecipazioni gonfiate finiscono nel comparto estero dell'Ambrosiano, la banca di Calvi, ma il castello di Sabbia a un certo punto frana. Saltano le protezioni americane a causa del Watergate e si iniziano a sentire i colpi della crisi economica del 73. Il crack Sindona emerge dalla fine dell'estate del 74, quando le sue banche, la Franklin, la banca privata e la Finbank, perdono più di 2 miliardi di dollari. Sindona ripara così all'estero, per non farsi arrestare. Marsinkus invece assicura che il Vaticano non ha perso un centesimo. In verità, la Chiesa perde dai 50 ai 250 milioni di dollari. Il posto occupato dal banchiere siciliano viene preso da Roberto Calvi, che aggiunge una peculiarità in più per lo IOR. Crea un polo bancario, cattolico, in grado di competere con i gruppi internazionali e di influenzare le politiche dei paesi dove opera, a iniziare dall'Italia, ovviamente. Il duo Marsinkus-Calvi è micidiale, ma Sindona non ci sta e da lontano ricatta Calvi. Nel 78 la Banca d'Italia compie un'ispezione al Banco Ambrosiano e i controlli fanno emergere debiti, crediti senza coperture e alti rischi di liquidità. Paolo VI muore il 6 agosto del 78. Viene eletto Albino Luciani, che diviene Giovanni Paolo I. Il nuovo pontefice, in passato, ha avuto dissapori proprio con Marsinkus e Calvi. Il 12 settembre il giornalista Mino Pecorelli pubblica 121 nomi di esponenti vaticani affiliati alla massoneria. Tra questi compaiono i nomi di Marsinkus, del ministro degli esteri Agostino Casaroli e del cardinale Ugo Poletti. Giovanni Paolo I, allora, decide di fare pulizia e la sera del 28 settembre confida al segretario di Stato Jean Villot, anche gli presente tra l'altro nella lista di Pecorelli, la sua intenzione di far trasferire Marsinkus. La mattina seguente, però, il corpo del neoeletto pontefice verrà ritrovato senza vita nel suo letto. Morto un papa, se ne fa un altro. Ed ecco che il 16 ottobre del 1978, ad ascendere al soio pontificio, è il polacco Karol Wojtyla, che diviene papa Giovanni Paolo II. Un papa giovane, carismatico, venuto dall'est. Piace ai giovani, quelli che frequentano la Chiesa, ovviamente, e piace agli italiani. Ma piace in particolar modo a Marsinkus, perché entrambi ferreamente opposti al comunismo sovietico. È chiaro che, da qui in poi, Marsinkus continuerà indisturbato la sua politica finanziaria di gestione dello IOR. Andiamo un po' avanti negli anni e dal 1978 facciamo un salto fino al 1981. Siamo a marzo, quando si innesca lo scandalo della P2, che porta alla crisi di governo. Due mesi dopo, Calvi finisce in carcere per reati valutari e nel luglio di quell'anno viene condannato a quattro anni di reclusione. Il banco ambrosiano è sull'orlo del crack. Ad agosto, Marsinkus e Calvi si incontrano in Vaticano. L'arcivescovo gli fa firmare una manleva, dove è scritto che tutte le responsabilità per le operazioni, passate e future, sono colpa del solo Calvi. In cambio, lo IOR offre delle lettere di patronage, che consentono all'ambrosiano di garantire debiti esteri fino al 30 giugno dell'82. Alla scadenza di questa data, però, l'ambrosiano dovrà restituire 300 milioni all'OIOR. Calvi cerca così di impiegare quel lasso di tempo per sanare i conti, ma il piano fallisce e, il 31 maggio dell'82, la Banca d'Italia denuncia rischi debitori per un miliardo e 300 milioni di dollari. Il destino dell'arcivescovo americano, Marsinkus, parebbe segnato a questo punto, ma egli gode della protezione incondizionata di Giovanni Paolo II. Protezione dovuta, probabilmente, ai 100 milioni di dollari che il Vaticano, tramite lo IOR, aveva inviato al sindacato polacco Solidarnosc per sconfiggere il comunismo sovietico. Calvi, nel frattempo, è fuggito a Londra. Verrà ritrovato, impiccato, sotto il Blackfriars Bridge, il ponte dei Frati Neri, il 18 giugno del 1982. Dalle ricostruzioni si stabilirà che non si è trattato di un suicidio. Ed è qui che sorge una questione cruciale per questa vicenda, una questione sollevata anche dal documentario Netflix Vatican Girl. Secondo il figlio di Roberto Calvi, Carlo, la sparizione di Emanuela Orlandi sarebbe legata alla morte del padre. Queste le sue parole in merito. Il rapimento della Orlandi è un messaggio teso e intimare al Vaticano il silenzio su certe questioni delicate come quelle di natura finanziaria, che hanno visto il coinvolgimento di banche, mafia, partiti politici. Queste oscure vicende risulteranno sempre legate alla nostra vicenda, alla morte di mio padre e alla fine dell'Ambrosiano. È proprio qui che la pista della banda della Maiana si ricongiunge con quella finanziaria. L'ipotesi è che il sequestro Orlandi sia stato attuato da alcuni membri della banda criminale romana al fine di ricattare il Vaticano, per pretendere la restituzione di una grande somma di denaro appartenente alla criminalità organizzata, che allo IOR aveva prestato quella somma tramite il banco ambrosiano di Roberto Calvi. Ricapitoliamo. La criminalità organizzata mette una grande somma di denaro sporco sulle casse dell'Ambrosiano, affinché venga riciclato. La banca di Calvi però presta quei soldi allo IOR di Marcinkus, che li usa per il finanziamento di Solidarnosc in Polonia. Nel 1982 però il banco ambrosiano fallisce e va in bancarotta. Calvi non può più restituire i soldi alla criminalità e così ripara all'estero, ma viene trovato e fatto fuori. Emanuela Orlandi viene rapita, perché è una cittadina vaticana e quindi sfruttabile per un ricatto al fine della restituzione del denaro perduto. L'ipotesi del ricatto finanziario è sostenuta dal giudice Rosario Priore e, come abbiamo appena detto, dal figlio del banchiere Roberto Calvi. Ma non solo. Ci sono anche due ex membri della banda della Maiana a sostenere questa tesi. Stiamo parlando di Antonio Mancini e di Maurizio Abbatino, rispettivamente ricotta il freddo di romanzo criminale. Mancini concede un'intervista alla stampa nel luglio del 2011, dove afferma di credere fermamente nella pista finanziaria, ma di essere scettico sulla somma che il Vaticano avrebbe dovuto restituire. Infatti il giudice Priore parla di 20 miliardi di lire, che sono troppo pochi secondo Mancini. Infatti dice «Quello che mi lascia perplesso è la cifra di 20 miliardi. Conoscendo la massa di denaro che entrava all'interno della banda, in modo particolare nel gruppo dei testaccini, ritengo che 20 miliardi sia una somma sottostimata». Nell'intervista ricollega inoltre la pista finanziaria alla sepoltura di De Pedis nella Basilica di Santa Polinare, di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente. Secondo l'ex boss, Renatino si sarebbe adoperato per far cessare gli attacchi della banda nei confronti del Vaticano. Dopo il fatto Orlandi, così lo chiama Mancini, De Pedis si sarebbe impegnato per far cessare le azioni violente e, tra le cose chieste in cambio di questa mediazione, ci sarebbe proprio la garanzia di essere seppellito lì, a Santa Polinare. Renatino, infatti, voleva più di ogni altra cosa costruirsi un futuro nell'alta borghesia e ci stava riuscendo insieme al suo gruppo di testaccini. Spiega infatti Antonio Mancini. «Nella banda ognuno rivestiva un proprio ruolo. Noi, della Maiana, avevamo il compito di conquistare il terreno. Quelli che dovevano inserirsi nei gangli del potere erano i testaccini, perché avevano i modi e la sfacciataggine di amalgamare la banda di sangue a quella di perbenismo, quindi di stabilire rapporti con imprenditori, politici, faccendieri, magistrati, vescovoni e tutto ciò che formava l'apparato Buona Società». Veniamo ora a Maurizio Abbatino. Anche il cosiddetto freddo, intervistato nel 2018 da Raffaella Fanelli, sostiene l'ipotesi del ricatto finanziario legato al Banco Ambrosiano. Rivela di esserne venuto a conoscenza da Claudio Sicilia, altro esponente della banda, il quale gli avrebbe detto che dietro al sequestro a Orlandi ci sarebbe lo zampino di alcuni testaccini agli ordini di De Pedis, che era il capo di quella parte della banda, come abbiamo detto. Queste le parole di Maurizio Abbatino in merito alla vicenda. De Pedis ha preso Emanuela Orlandi per i soldi che aveva dato a personaggi del Vaticano. Soldi finiti nelle casse dello IOR e mai restituiti. E non c'erano solo i miliardi di testaccini, ma pure i soldi della mafia. L'omicidio di Michele Sindona e quello di Roberto Calvi sono legati al sequestro a Orlandi. Michele Sindona, infatti, che avevamo lasciato un po' da parte, era morto avvelenato il 22 marzo dell'86 nel supercarcere di Voghera. Abbatino aggiunge che a suo parere non si trattò di un ordine della mafia, ma di una cosa fatta in accordo dalla mafia e da alcuni membri della banda. Renatino, inoltre, avrebbe avuto dei rapporti con Monsignor Agostino Casaroli e con altri membri del Vaticano. Questi rapporti sarebbero stati ereditati dal primo capo della Maiana, Franco Giuseppucci. Veniamo ora all'ultima sottoteoria riguardante la pista finanziaria, quella del giornalista Andrea Purgatori, che per anni ha indagato sul caso Orlandi sino al giorno della sua recentissima scomparsa. Secondo il giornalista, la storia della sparizione di Emanuela Orlandi si divide in due tempi. Nel primo tempo, la ragazza cade vittima di uno stupro interno alle mura del Vaticano. Nel documentario Netflix, infatti, è stata resa nota al grande pubblico la testimonianza, in realtà già fatta qualche anno prima, di un'amica di Emanuela, alla quale la ragazza ha confessato, poco prima della sua scomparsa, di aver ricevuto delle attenzioni da parte di un alto esponente della Santa Sede. E pertanto Emanuela, secondo Purgatori, potrebbe essere stata vittima di una violenza finita in tragedia e il suo corpo fatto sparire. Ma questo è solo il primo tempo. Nei giorni seguenti alla tragedia, la notizia della scomparsa di una quindicenne cittadina vaticana, giunge alla stampa e la vicenda inizia ad assumere una vasta eco-mediatica. Ed è così che inizia il secondo tempo. Un'organizzazione criminale di alto livello utilizza il caso per trarne vantaggio. L'organizzazione ha perso un'ingente somma di denaro col crack del Banco Ambrosiano e lo indietro. Emanuela è una cittadina vaticana ed è proprio il Vaticano ad utilizzare quella somma presa dall'Ambrosiano. Allora l'organizzazione sfrutta il caso di Emanuela per ricattare il Vaticano e riavere indietro quella somma. Un sequestro inesistente, insomma, perché senza la vita. Un'ipotesi, questa, che spiegherebbe il ricatto anomalo attuato dall'americano e dai membri della sua organizzazione. Come abbiamo detto in un episodio precedente, l'ipotesi del sequestro di persona verrà scartata dagli inquirenti, dato che non è mai stata fornita una prova in vita della ragazza e ciò non rientra nella prassi dei sequestri. Pertanto, l'organizzazione criminale che si cela dietro la vicenda non è realmente in possesso di Emanuela, ma sa qualcosa di lei e si procura delle informazioni su di lei, così da poter ottenere queste sue conoscenze per ricattare la Santa Sede. Secondo Purgatori, forse i soldi da restituire provengono dall'Andrangheta, che quindi si sarebbe rivolta alla banda della Maiana, in particolare al capo dei Testaccini, De Pedis, per la restituzione della Somma. L'appello stesso di Weitila, fatto il 3 luglio dell'83, rivolto ai sequestratori di Emanuela, sarebbe la prova che il Vaticano sapeva qualcosa in più già da allora. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità, di chi abbia responsabilità di questo caso. Inoltre, Purgatori rivela una confessione fatta gli da una signora inglese, che all'epoca dei fatti lavorava alla sala stampa vaticana. Ricordiamo che i sedicenti sequestratori avevano stabilito un codice di comunicazione con la sala stampa vaticana, che corrispondeva all'158. Ebbene, la donna, che lavorava lì come corrispondente, risponde a uno squillo. Dietro la cornetta, un interlocutore le dà il codice 158 e poi le detta un messaggio da riferire a Monsignor Casaroli. Dovete dire al segretario di Stato di prendere un'iniziativa, se no questa storia finisce male. La donna mette giù la cornetta e va dal capo della sala stampa, padre Panciroli, per riferirgli dell'inquietante telefonata. L'uomo le chiede di scrivere a macchina quello che ha appena sentito, così lei esegue e poi se ne torna a casa. La notte però verrà svegliata da una chiamata di padre Panciroli, che le ordina di dimenticarsi della telefonata in sala stampa. È insomma questa l'atmosfera che si registrava al tempo in Vaticano, all'epoca della scomparsa di Emanuela Orlandi. E sono queste le principali ipotesi riguardanti la pista finanziaria. A 40 anni dalla scomparsa di Emanuela, l'ipotesi che la vicenda sia legata allo scandalo dello Ior dell'Ambrosiano, resta a mio avviso una delle più credibili. Nella speranza che venga fatta luce sulla vicenda, vi ringrazio per avermi ascoltata fin qui e vi invito a seguire anche il prossimo episodio di Italia Nera, il male nel bel paese, che andrà ad analizzare l'ultima pista per il caso Orlandi, la pedofilia in Vaticano. Alla prossima, un saluto da Very Dark Princess.